Attraverso questo video voglio darti alcune novità che troverai in questo percorso straordinario integrato ovviamente a questo canale. Se hai letto i miei post e magari mi segui su Facebook o se sei iscritto alla newsletter che trovi ovviamente nel mio sito, che trovi qua sotto il link e quindi ti puoi iscrivere alla newsletter, avrai visto una novità molto importante. Andrò a creare, oltre a tante altre creazioni che voglio condividere con te, sono 12 webinar legati alle varie applicazioni della meditazione. Quindi prendiamo per esempio il primo webinar come integrare la meditazione nei centri estetici e nei centri olistici, come guidare la persona in un rilassamento, quali parole utilizzare, che tipo di musica e che tipo di frequenze utilizzare in base al tipo di persona che abbiamo di fronte a noi. Un altro webinar è come utilizzare la meditazione nello sport e per aumentare le nostre performance. Un altro webinar è come applicare la meditazione o la mindfulness nei posti di lavoro e ovviamente come libero professionista, come imprenditore, come integrare la mindfulness e la meditazione. Un altro webinar è come integrare la meditazione attraverso il medico paziente, che tipo di comunicazione utilizzare, qual è lo stato d'animo ottimale, come gestire il nostro stato d'animo, come purificarci, insomma tantissimi webinar legati a come integrare la meditazione nelle varie applicazioni. Ci saranno altri webinar legati al coaching, ovviamente come utilizzare il coaching nella nostra vita, continueranno ad esserci i video il giovedì, a luna, riguardo alla formazione, al coaching, quindi brevi video che ti permetteranno di capire come integrare e potenziare la tua conoscenza e la tua ricerca, sia a livello personale che professionale. Continueremo il sabato con le meditazioni, meditazioni nuovissime con frequenze, musiche, con connessioni neuro associative e ovviamente suoni isocronici che ne avrai sentito parlare su questo canale, avrai visto altri miei video. Inoltre ovviamente continueranno altre interviste con professionisti nel settore, medici, psicologi, e insomma se ancora non l'hai fatto iscriviti perché troverai veramente qualcosa di importante per la tua vita. Oltre ai corsi, poi se vorrai potrai partecipare ai corsi dal vivo, ci saranno corsi fino a marzo alle Canarie, poi ci saranno altri due corsi, uno a aprile e uno a maggio a Milano e mi auguro di averti in aula perché ci sarà un corso di scrittura creativa insieme ad Anna Cavagnoli ad aprile e poi ci sarà il mio nuovo corso dove ho messo insieme oltre dieci anni di tecniche e metodologie condensate in due giorni di lavoro. Certo ho messo insieme le migliori tecniche per le quali ho visto tante persone che hanno rivoluzionato la propria vita. Quindi se anche tu hai deciso e vuoi fare un passo, vieni a maggio, troverai comunque qui sotto tutte le informazioni e poi non per ultimo lo dico qui se hai voglia di intraprendere un percorso insieme a me legato al mondo del coaching ecco anche questo fa parte di un percorso certificato. Inoltre ti inizio ad anticipare che stiamo cercando dei promotori, dei partner, delle persone che ci aiutino a promuovere, a far conoscere i nostri eventi, nello specifico quello sulle Canarie. L'anno prossimo ci saranno delle novità sia a livello di prezzo ma anche a livello di percorsi quindi cerchiamo persone che hanno la capacità di voler organizzare degli eventi, hanno la capacità magari o l'idea di creare qualcosa di innovativo nella propria vita portando a casa del reddito ovviamente o magari quelle persone che hanno un'agenzia, un'agenzia viaggi un po' particolare, un po' esclusiva che possono dare questa informazione ai loro clienti, ripeto, prendendo una buona opportunità non solo di partecipare al corso ma anche opportunità di guadagno. Oppure quelle altre persone che sono in questo percorso, in questo cammino, che hanno la voglia di mettersi in gioco, contattateci qui sotto, trovate in descrizione sia il mio sito dove trovi tutte le informazioni ma trovi anche la mia mail quindi mi puoi scrivere privatamente se hai il desiderio o l'intenzione di promuovere i prossimi eventi che faremo a forte ventura. Quindi perché no? Magari puoi partecipare anche tu se farai determinate azioni, ci sarà ovviamente un webinar specifico dove parleremo solo di questo tipo di nuova opportunità. Quindi stai con noi, stai connessa, connesso, iscriviti al canale e mi raccomando vivi la tua vita al 100% e vivila al pieno, 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 piena energia dando il 100% quando puoi e quando non puoi ti rilassi e fai un po' di meditazione, aumenti le tue frequenze. Ci vediamo al prossimo video, ciao!